e intanto ovviamente inizio grazie mille per avermi invitato scusami ancora per ritardo complimenti per l'iniziativa fantastica penso sia abbastanza impegnativo no ogni sera sì sì pensavo che fosse più facile sai è invece impegnato diciamo che c'è tanto supporto dietro quindi vedete la mia faccia però in realtà c'è tantissimo supporto dietro però comunque abbastanza impegnativa direi che la prossima volta ci penso da un paio di volte in più per farla certo però tu non puoi parlare cioè nel senso che tu sei live ormai almeno tre volte a settimana se non sbaglio quel quello sicuro infatti dopo di solito le 10 10 e mezzo perché ormai gli anziani come avevi di prima dormono un po non puoi cominciano infatti non sai quante volte mi è capitato di iniziare tardi la live vabbè come hai detto tu però dai facciamo il possibile per essere sempre disponibile vedo anche tu sempre disponibile non so se l'hai ricordato nel tuo canale telegram c'è un sacco di movimento tanti ragazzi sei sempre a disposizione veramente impegnativo però è tante volte beh sì dai ci proviamo poi alla fine è una di quelle cose che se si porta avanti tutti assieme alla fine diventa un po più gestibile ora magari capita di non rispondere per giornate intere però ci sta c'è tanta altra gente che ha voglia di condividere e quello fa parte del gioco bene metto il tuo schermo grazie mille grazie mille sei bisogno sono qui perfetto grazie ancora di tutto a dopo allora eccoci qua intanto per l'ennesima volta scusatemi per 10 minuti di ritardo oggi parliamo di angola in realtà era un po di tempo che non parlavo di angola ultimamente mi sono dedicato soprattutto a ad altre tecnologie in realtà mi presento velocemente mi chiamo fabio biondi mi occupo principalmente di front end amo angola molti di voi già lo sanno ma in realtà amo anche ria mi piace anche svelto un po tutto quello che ruota attorno quindi quello è il mio è il mio core business quindi perciò alla fine se avete anche domande su tutto ciò che riguarda angola ma in generale sul mondo front end a disposizione oggi parliamo di angola per certi versi diciamo che chi lavora nel front end che utilizzi angola utilizzate react vi dicendo avete bisogno nella di configurare un ambiente di lavoro quindi partiamo proprio dalle basi un ambiente di lavoro che vi permetta di lavorare e tra le prime cose da fare quando dobbiamo lavorare nel mondo front end sembrerà strano ma dobbiamo comunque averne la macchina installato node.js node.js ci servirà non solo per non solo per scaricare tutti i pacchetti perché quando utilizziamo installiamo node.js vi si installerà uno strumento chiamato npm quindi npm napoli palermo napoli che vi permette che sta per node package manager che per chi viene dal mondo dotnet e si può paragonare per esempio a nuget per chi viene dal mondo java a maven è un gestore di dipendenze di pacchetti tramite questo noi possiamo scaricare il pacchetto di angola possiamo scaricare la libreria di bootstrap jquery e tanto altro quindi è indispensabile avere in installato nella propria macchina una versione di node in realtà molto spesso abbiamo bisogno nella nella nostra macchina di installare node magari in versione x per far funzionare angular in versione y ma potrebbe anche essere necessario per esempio io uso uno piccolo dispositivo a mode arduino che supporta node 8 e abbiamo bisogno quindi di installare e di avere anche la versione 8 cosa devo cosa devo fare un downgrade è un po scomodo nella macchina l'ideale è avere eventualmente l'installazione io consiglio di farlo come primo step quando lavoriamo sul dobbiamo iniziare a lavorare in questo mondo nvm nvm sta per node version manager come vedete nella mia macchina ho installato tutte queste versioni di node dalla 4 fino ad arrivare alla 14 adesso non stiamo usando la 14 perché c'è la freccina potremmo anche andare a utilizzare un'altra versione nella 14 per esempio lo vedremo tra un po ho installato lo strumento che si chiama angular cli dopo ne parleremo per usare angular in versione 11 per esempio però potrei switchare facilmente alla 8 o nvm use e in questo caso per esempio qui potrei aver installato adesso non me lo ricordo ma per esempio angular in versione 9 in questo modo riesco a tenere nella mia macchina più versioni di node e poter switchare fare quindi un downgrade un upgrade ad una versione superiore o inferiore in a piacimento senza grossi problemi io consiglio di installarlo anche perché se venite da windows se utilizzate windows è molto semplice è sufficiente cercare nvm windows andare su un repository cliccare su download now poi magari vi passo il link in chat adesso non ho la possibilità di farlo e scaricare il setup è semplicissimo eseguibile si installa e avrete a disposizione quindi più versioni di node potrete poi installarlo o meno è abbastanza semplice da usare poi caso mai ne possiamo parlare se avete delle domande ok quindi una volta installato nvm quello che possiamo fare è installare uno strumento chiamato angular cli quando installiamo node che sia tramite nvm o tramite un eseguibile scaricato dal sito ne possiamo installare globalmente con npm install meno g un pacchetto speciale di angular che si chiama angular cli cli sta per command line interface questo qui adesso non lo faccio perché ovviamente io l'ho già fatto mi darà dopo un minuto circa installerà un pacchetto mi darà a disposizione lo strumento chiamato ng quindi posso meno g perché global installerò globalmente quindi uno strumento chiamato ng in qualunque cartella del mio hard disk posso avviarlo quindi non devo fare nient'altro che andare dove voglio ad esempio nel mio desktop e creare un nuovo progetto con ng new nome del protetto demo pippo pluto quello che volete questo il nome del progetto ok abbiamo una serie di opzioni anche nel mio caso poi ve ne parlerò ho usato delle opzioni che sono meno s meno s grande anzi meno p meno s grande e meno prefix ora è un po prematuro parlarvi da subito di queste di queste opzioni perché ovviamente se non avete mai visto angula probabilmente non vi diranno molto però tra un po cercheremo di cercherò di spiegarvele meno s indica semplicemente che io invece di usare degli style esterni quindi di avere lo vedremo tra un po di css esterni scriverò dei componenti e troppo capiremo che cosa sono con lo sti con i css direttamente in linea quindi un unico file in cui avremo lo style meno 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 t sta per inline template il template lo style e avremo anche il codice javascript in angler molti molti sviluppatori sono abituati avere tre file separati uno che contiene la logica in javascript punto ts visto che useremo typescript tra un po ci arriveremo uno per css e uno per il template per quanto mi riguarda preferisco scriverli tutti quanti in un unico file per vari motivi ma di questo ne parleremo tra un pochino so che a molti non piace il fatto di avere css html e codice javascript nello stesso file lo trovo molto invece molto pratico poi venendo da react usando anche svelte di dicendo ma anche view un pochino la tendenza comunque quella di avere un unico file invece che file separati perché risulta molto spesso molto più pratico oltretutto invece di dover indicizzare il mio progetto faccio un esempio 3000 file ne indicizzarò il 66 per cento in meno quindi solo mille quindi il progetto risulta più veloce se devo scrollare tre file quindi nella nella navigazione durante la navigazione del progetto o meno file scrollare quindi tutto risulta molto molto più più easy comunque a prescindere che voi usiate o meno queste queste sintassi mi si genererà un progetto nell'arco di qualche secondo utilizzo il prefisso meno b e meno fb fb sta per fabio biondi il mio acronimo di solito si usa l'acronimo della della società o del progetto che si sta utilizzando semplicemente perché questo fb aggiungerà aggiungerà un prefisso fb ad ogni componente ad ogni file in modo tale che se un domani dovessi lavorare con altri team o altre librerie esterne non ci sia ci sia la meno possibilità di collisione di nomenclatura faccio un esempio potrei creare un componente panel in quel caso si chiamerà fb panel magari lavoro con un altro team che si che di miche lui ha miche come per esempio prefisso e avrà su miche panel no quindi cerchiamo di ridurre al minimo la collisione che ci può essere tra tra i nomi ok con stile bravo fa intanto leggo i commenti ciao carmak allora intanto cerco di leggere i commenti quella comunque comunque scusate se qualche volta mi mi sfuggerà qualcosina ora ovviamente fare una premessa sullo sviluppo di single page application è un po out of topic no ovviamente rispetto a la lezione che c'è diciamo la sessione che sto per fare adesso l'obiettivo in realtà non è una lezione di formazione su angular ma è farvi vedere un po il potenziale in questo caso cosa ho fatto creato un progettino che poi trovate su git quindi vi passerò il link un progettino molto semplice in cui abbiamo un campo di input e una serie di risultati questa adesso è la versione statica ho già creato l'html ho già creato il css quello che dobbiamo fare noi è semplicemente andare a riempire il tutto con con diciamo il nostro codice angular e javascript comunque ad ogni modo dopo aver creato il progetto con ng new qualcosina io mi ritroverò il mio progettino che ho chiamato tv maze angular demo beginners sono una serie di file che sono servono del progetto per funzionare dalla configurazione di typescript a package json package json è per esempio il gestore delle dipendenze che viene gestito tramite quel famoso npm che cosa fa quando abbiamo creato il nuovo strano nuovo progetto con ng new mi si è creato quindi una cartellina con già un hello world che io ho già popolato adesso un pochino con dell'html poi lo andiamo ad analizzare e tutta una serie di file di configurazione in cui appunto posso vedere come è configurato typescript quindi posso renderlo più o meno flessibile più o meno strict per andare a validare per esempio il mio codice il tslint questo è un fantastico strumento che è già preconfigurato in cui per esempio posso specificare guarda che la massima lunghezza della tua linea è di 140 caratteri devi usare il punte virgola non puoi lasciare una riga vuota e così via una serie di regole stilistiche il che la parte interessante che non vi daranno errori di compilazione ma se io dimentico di scrivere un punte virgola o se la mia linea è più lunga di 140 caratteri riceverò un warning che mi segnala che c'è un problema questo questo tipo di meccanismo chiamato linter è uno strumento questo ts che sta per typescript in realtà tra un po pslint andrà a morire in favore di eslint che sarà la versione per javascript per es quindi per ecmascript e ci sono due tipi uno per typescript uno per javascript tra un po questo andrà a morire in favore di eslint ma il concetto è lo stesso questo strumento ci permette sostanzialmente di avere un tutto un team che lavora con le stesse convenzioni quindi se io decido di non usare punte virgola avrò un warning confronto a un'altra persona che lo usa quindi all'inizio progetto bisognerebbe scegliere delle regole e seguirle tant'è che spesso si può anche fare in modo che il progetto non vada neanche su git se come si suol dire tra virgolette il codice non linta non passa il link quindi si può evitare di fare un push di far fare un push al vostro collega se per esempio si è dimenticato un punto e virgola questo dipende da quanto volete farvi odiare dai colleghi o meno ok come ide sto utilizzando rispondo a livio web storm uso web storm che per quanto riguarda lo sviluppo front end è davvero un ottimo ide poi se mitch diamo un po un attimino ecco se mitch me lo permette ma mi sa di sì mi ha risposto poi regaliamo nella sua sorteggio anche una licenza di web storm che un software a pagamento però che era tutto molto molto valido quindi lo buttiamo lì tra i regali di oggi allora e qui dentro dentro questo pack a json alla fin fine per farla molto più breve veloce così partiamo subito con il codice o un elenco di dipendenze che servono all'applicazione per funzionare no quindi di default angular ha già bisogno di tutta una serie di dipendenze lato client quindi lato diciamo javascript che sono le librerie di angular più rgs che un'altra libreria lato client per fare cose interessanti adesso andiamo oltre e poi le dev dependencies la differenza tra dependencies e dev dependencies e che le dev dependencies servono solo in sviluppo quindi sono strumenti che riguardano la compilazione gli unit test e così via le dependencies sono invece quelle che andranno in produzione quando creo la build vera e propria e voglio quindi pubblicare la mia app ok e quindi se installo bootstrap per fare un nome a dire un nome a caso o installassi jquery tanto per dire un altro a caso andrebbero a finire nelle dependencies e per farlo dovrei semplicemente scrivere npm install il nome del pacchetto per esempio bootstrap o quel che è e lo andrebbe installare qui questo è molto comodo perché nel momento in cui per esempio anche voi potete prendere questo progetto e provarlo nel vostro nel vostro hard disk quello che farete è prendere questo progettino senza la cartella node modules che è una cartellina dove vedrete che c'è un sacco di roba veramente guardate quanto sono solo la lettera c e sta ancora scrollando sono tutte le dipendenze del progetto però occhio che ogni dipendenza ha un suo package json e quindi ogni dipendenza a sua volta avrà le sue sottodipendenze e le troviamo tutte quante sta roba e ha occupa centinaia di megabyte e sono migliaia di file solo copiare una chiavetta usb solo per la quantità di file ci potrebbe richiedere più di un'ora no perché ci sta una vita a farlo quindi cosa succede che noi versioneremo tutto il progetto su git senza la cartella node modules e grazie a questo package json che è praticamente tutto un po un indice di tutto quello che contiene la nostra app a livello di dipendenze potrete ricreare la cartella node modules semplicemente scrivendo un esempio banale scarico il progetto con git clone il nome del progetto vado nel progetto scriverò npm install npm install legge il file package json legge l'elenco e via ricreerà automaticamente questa cartella ok sì il progetto è stato creato con il lancio del comando ng non so chi lo chiedeva comunque si ng new semplicemente il nome del progetto che ho chiamato tv mails angolo nome un po assurdo però giusto per identificare qual è questo questo progetto scusa devo per forza far vedere questo meme esatto lo mostro anch'io spesso è fantastico infatti il buco è veramente un scusami ma dovevo non hai fatto benissimo attuare tra cuore quando vuoi assolutamente ok bene 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 adesso magari zoom un po io il carattere visto che ho visto che qualcuno chiede di zoomare lo schermo però posso zoomare io e andiamo avanti allora in questo in questo package json tenete conto che tutto quello che vi sto raccontando adesso vale per angular ma vale per react views velte così via il meccanismo se si viene usato npm è praticamente lo stesso dico se viene usato perché eventualmente c'è l'antagonista di npm che yarn by facebook è spesso usato nel mondo react no comunque detto questo noi abbiamo adesso qui anche degli script questi sono script già pronti tra cui useremo già npm start lanciando semplicemente il comando start con npm run start qui è abbreviato npm start perché ci permette di avere una versione concisa lo start ma in realtà sarebbe npm run nome del comando lo start cosa fa apre un web server sulla porta 4002 che è questa qui sostanzialmente e qui come vedete io ho un web server che gira che rimane diciamo in ascolto di eventuali variazioni che faccio il mio progetto tant'è che se io adesso vado qui e per esempio faccio una modifica rimuovendo tutto il template di cui vi parlerò premo save se notate è sparito tutto il contenuto quindi in poche parole c'è una sorta di watch nel file system e ogni volta che viene fatto una modifica il codice il template il nostro browser ricompila e si vedono le modifiche la build mi permette di farlo di creare una build cioè ovvero una versione statica del progetto siccome questo sarà composto da diversi file prende tutti i file li metti in un unico li compila li metti in un unico file che noi possiamo pubblicare dove vogliamo o rispondo già una domanda che mi viene fatta spesso non serve che ci sia node jss nel server basta un server di qualunque un server qualunque anche a basso costo nel senso che sto per fare qualche nome ma il server da battaglia qualunque che avete è più che sufficiente perché vi si crea una versione proprio statica di html css e javascript la potete buttare praticamente su qualunque server lo fa la build vabbè questo per lanciare gli unit test che spesso sono fantascienza però lasciamo stare il linter lancia il famoso linter questo tslint in tutti i miei in tutti i miei file quindi avrò una elenco sul terminale praticamente di tutti gli errori punto e virgola che mancano spazio e così via e questi vabbè sono gli end to end test ma che sono un discorso a parte quello che interessa noi lo start e poi la build per poter pubblicare se volete rimuovermi dalla scena per me va benissimo è tanto tanto sono non è non è un problema e poi ritorno a no però se mi rimuovete non si sente l'audio probabilmente e comunque per me non è un problema no mi sentite ancora benone ok perfetto grande mich allora detto questo il progetto spesso quando viene creato in angular contiene qui tre file in realtà in realtà ne contiene cinque file in questo caso qua vedete una versione concisa e compatta nel senso che quello che viene creato è un app module che vedremo poi è una sorta di entry point della mia applicazione di cui parleremo poco in realtà oggi ma ci concentreremo più sulle feature della di angular per quanto riguarda la gestione di template dinamici e abbiamo qui un file che è app component punto ts ts sta per typescript quindi qua di solito contenia con verrà contenuta qui la la business logic del del progetto quindi cosa vuol dire che qui possiamo mettere del codice javascript poi di solito c'è un file html un file css e ancora uno unit test quello che ho fatto io con il comando che vi ho mostrato prima ng new people dire guarda non voglio li stili esterni mettimelo in line non voglio il template in esterno ma mettimelo in line non voglio mettere generare lo unit test questo sta per skip test meno meno prefix fb fa sì invece che questo componente adesso di cui parleremo tra un pochino abbia un prefisso che appunto fb root fb invece di avere un generico app come capita di solito quando non specifichiamo un prefisso ok tanto vedo se ci sono domande poi ditemi pure se me le perdo mi spiace ma cerco di rispondervi ora cosa succede qua come vedete qua come vedete abbiamo ho creato semplicemente abbiamo una classe una classe che è decorata con add component questi qui vengono chiamati decoratori sono disponibili in typescript ed è un po come è un'alternativa possiamo dirla alla reddita di età invece di scrivere extend qualcosa noi stiamo dicendo guarda che questa classe deve assumere la connotazione di componente in angular dove andiamo specificare cosa un selettore un template e del css ora come vedete il css in realtà l'ho lasciato esterno ho specificato qui una una parte css che serve per realizzare questo layout in realtà avrei potuto anche scriverlo in line ma adesso ne parleremo pian piano e qui ho inserito il template che cos'è un componente quando noi abbiamo una pagina una pagina web qualsiasi possiamo creare un unico html che gestisce tutta la pagina ma prendendo questa per esempio di github noi abbiamo la possibilità ad esempio di definire che questo qui sopra è un componente che si chiama in realtà una classe no che si chiama navbar che magari questo è il sottomenu che questo è il componente per switchare qualcosa qui abbiamo invece la nostra il nostro contenuto ma qui dentro potremmo avere anche qua un altro sottocomponente che gestisce questa parte qui sotto sostanzialmente ci permettono i componenti che poi sono rappresenti in realtà delle classi come vedremo almeno per quanto riguarda angular sub per esempio invece in react sono delle funzioni ma il concetto è lo stesso ci permettono di organizzare una view in diverse sottoparti quindi a un componente possiamo delegare una piccola porzione di view dal punto di vista dell'html e un la business logic per gestire quella parte di view ovvio che qui non c'è molta business logic da gestire ma se questo fosse la pagina di angola di amazon dove c'è per il carosello delle immagini qui potrebbe avere un carosello qui le ultime offerte qua un box dei commenti e così via ok oggi in realtà vediamo alla fine se riesco a creare almeno un componente no però in realtà non dovrei metterci molto a svilupparla perché avendo già tutto il template tutto quello che ci serve dovevo solo praticamente renderlo dinamico no avremo semplicemente un unico template come vedete che contiene tutto il mio codice infatti qui vedete c'è l'input che se rimuovo scomparirà qui abbiamo una griglia per esempio adesso con due grid item che sono una preview del di una serie tv per adesso statica e qui avremo invece un eventuale serie tv che non ha la locandina quindi prevediamo per esempio un default quello che potremmo fare è cercare qui una serie tv avere qui l'elenco delle serie tv e questa adesso è nascosta al click poi di una serie tv vedremo una modale con la x qua in alto a destra con la locandina ed eventualmente poi le informazioni della serie tv qui avremo modo di esplorare un po diverse cosine che riguardano angola per esempio abbiamo a disposizione vedremo come gestire i form e tra l'altro vi farò vedere due tipi di forme alcuni tipi form gestiti da template e alcuni tipi di form gestiti con rxjs è assolutamente diciamo difficile adesso in un'ora che si deve mostrare tutte le feature di angola e farvi capire tutto però prendetela un po come semplicemente un'ispirazione per capire un po per capire un po il potenziale il progetto è già su github che rispondo a smau quindi dopo vi passo il link vi mostro anche come gestirlo vediamo l'unica se vediamo ok non sto vedendo se c'erano altre domandine ok detto questo detto questo qui vedete ho il template in line di default invece di usare template in line avrei potuto usare template url e qui ovviamente specificare come a molti piace del resto è un file magari che si chiama app punto component punto html di creare qui un file esterno un file esterno che gestisce esclusivamente il la catia la parte html come vedete io ho mixato un po di cose qui avremo il template url e qui sotto possiamo scrivere sostanzialmente la business logic comunque questa è un'opzione che insomma dipende molto dei gusti uso il backtick che una funzionalità di s6 che mi permette inoltre di scrivere string multiline altrimenti non sarebbe possibile farlo senza questo questo simboletto che si fa nel su mac con alt pipe su pc con un comodissimo alt 96 io vi consiglio tra l'altro se già usate angular o qualunque linguaggio front end o back end che usi javascript in realtà qualunque contesto javascript se avete bisogno del backtick esistono degli strumenti per rimappare la tastiera di creato una piccola macro da tastiera in modo da generarla senza diventare matti soprattutto sui portatili ok detto questo abbiamo questa questo questo semplice template la modale tra l'altro è semplicemente un wrapper che banalmente che banalmente mi ha un contenuto e qui come abbiamo visto prima lo vedremo tra un po abbiamo una x qua in alto a destra eccola qui abbiamo la locandina abbiamo poi non series series title i tag eventualmente più di uno se la serie tv una commedia dramma dramma quello che è un testo e poi un link per visitare il sito web della nostra della nostra applicazione della nostra serie tv preferita in più quel css semplicemente lo troverete poi e del css che usa se banalmente flexbox un po di cosina per impaginare tutto niente di drammatico insomma anzi probabilmente lo scriverete sicuramente meglio di come posso aver fatto io oppure cambiare tastiera leonardo dice grazie per l'altro 96 no in realtà vi do qualche suggerimento che comodo potete usare auto hot key ok che è un mapper di tastiera lo cercate su google oppure anche della microsoft non mi ricordo se è scritto giusto creator layout creator o qualcosa del genere comunque se cercate lo trovate sono gli ottimi strumenti in ambiente windows per rimappare il la vostra tastiera per esempio associare che proprio alt pipe alto un comando quello che volete voi il backtick altrimenti si diventa davvero matti ok bene detto questo detto questo andiamo senza andare troppo nei dettagli perché comunque stiamo correndo tanto di solito ci vuole un'introduzione un pochino più con calma però diciamo che possiamo andare andare oltre ora quello che vogliamo fare digitare qualcosa in questo campo di input per esempio c'è il soprano serie tv soprano e voglio vedere alla pressione del pulsante invio dei risultati poi vi farò vedere anche come possiamo invece usare rxjs per che di cui vi parlerò tra un po per fare in modo invece che il tutto scatti in automatico al termine della digitazione far scattare direttamente la ricerca senza dover premere invio ma così vedete un po di feature quella in poche parole quello che possiamo fare adesso è semplicemente utilizzare un po di angular per fare queste queste dinamiche ribadisco che non è il punto sicuramente il migliore da cui iniziare no quindi adesso dalla gestione degli input degli eventi e così via però vi ripeto è un modo prendetelo come modo per comprendere quello che fa angular e i suoi vantaggi in particolar modo noi possiamo per esempio adesso gestire un qualunque evento del mouse che sia il click che sia in questo caso il key down il key up o quello che volete usando le parentesi tonde questo è un po come se stessimo scrivendo ad event listener in javascript su questo campo di input e l'evento che io voglio ascoltare in questo momento è l'evento key down quando chiamo quando metto questo listener posso decidere di invocare una funzione in questo caso un metodo della mia classe che si chiama search qui sotto posso creare nella mia classe il metodo search che non restituisce nulla e che verrà invocato ogni volta che scrivo qualcosa nel mio campo di input e infatti qui vedete adesso qui ogni volta che scrivo qualcosina la parte interessante è che in angular abbiamo la possibilità anche di usare alcune chiavi per esempio enter delete shift quello che volete per definire invece che questa funzione dovrà essere chiamata solo alla pressione del pulsante enter infatti se scrivo qualcosa solo quando premo invio vedete otterrò praticamente il nostro console log adesso quindi molto molto comodo ok detto questo io posso andare adesso banalmente ad utilizzare un approccio che in questo caso non sfrutta pienamente angular angular può fare molto ma molto di più però in realtà in era molto easy abbiamo in realtà veramente tantissime tecniche per farlo adesso magari ve le mostro ve ne mostro un po anche se andrò un po velocemente ma giusto per farvi rendere conto del potenziale innanzitutto di solito un evento di tastiera quando viene invocato un mouse event un keyboard event quando viene invocato una funzione ci genera un evento un evento che può essere assolutamente preso da questo da questa callback e sai in questo caso di tipo keyboard event cosa succede che però se qui ricevo un evento anche qui angular o in questo caso typescript si aspetta un parametro infatti mi da un errore qui per fare in modo di recuperare che se un evento del mouse o di tastiera per recuperare appunto l'evento stesso possiamo andare a passare una parola chiave chiamata event ora nel momento in cui premo invio vedete qua anzi non ho fatto il print andiamo qua faccio il print di event vedrete che scrivo qualcosa premo invio e recupero sostanzialmente l'evento della tastiera questo esattamente come in javascript vanilla possiamo andare qui e recuperare tutto quello che è stato generato da questo evento tra cui anche il target che come vedete questo target è un po come se avesse un getelementbyid su questo campo di input quindi sto selezionando il mio target e poi volendo qui dentro target avremo accesso alla proprietà lì sotto value 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 ce ne sono tantissime come vedete ma questo è javascript semplicemente le proprietà del nostro DOM come vedete punto value quindi qua adesso volendo io posso recuperare event target punto value recupero quel valore viene un errore semplicemente perché qui stiamo utilizzando typescript in poche parole typescript è una versione diciamo tipizzata di javascript fa molto di più però come il nome stesso lascio intendere typescript possiamo tipizzare i nostri variabili questo vuol dire che noi potremmo avere qui un value di tipo number di tipo string e così via e avere degli errori in fase di compilazione nel momento in cui per esempio questo velio vado ad associare una stringa visto che si aspetta che sia un number ora come dicevo non è chiaramente questa la sessione più più indicata per diciamo una sessione di un'oretta in cui è difficile spiegarvi tutte le varie sfaccettature però ripeto prendetela come una possibile un possibile esempio per comprendere un po' ripeto le potenzialità del del framework ad ogni modo target e di tipo event target generico che in realtà non è un campo di input come invece vediamo qui quando io vado su target vedete che ho un campo di input quello che devo fare un semplice casting in typescript il casting viene chiamato type assertion che possiamo poi andare a scrivere che abbiamo in questo caso un event target di tipo html input element e in questo modo event target è tipizzato come un campo di input e qui vedete ho tutte le varie proprietà di un campo di input tra cui anche il value e in questo caso se scrivo ciao come vedete lo vado a recuperare questo è solo un esempio ed è il più banale quello che possiamo fare diciamo che possiamo utilizzare in angola per recuperare i valori possiamo fare anche altre cose ve ne mostro alcuni ma giusto una carrellata veloce se non lo finiamo più posso usare quelle che sono chiamate template reference variable un po come l'id in html qui possiamo ad esempio andare a indicare il nome di questo campo di input per esempio con molta fantasia lo chiamo input ref e qui vado a passargli input ref in questo caso vedete mi dà un errore mi dice guarda che html input element che questo input ref non è assegnabile a un keyboard di event certo perché prima passavo un evento ora passo direttamente alla reference questo campo di input vado qui non riceverò più questo ma ricevo il mio input a questo punto è già di tipo html input element e qui posso fare direttamente input punto value stesso risultato di prima questo può essere un approccio quando però ho più campi di input per esempio uno adesso non è questo il caso due tre eccetera ovviamente andare a creare una template reference variable per ognuna delle proprietà diventa un pochino scomodo e allora cosa posso fare in angular esistono due tipi di gestori di form uno è il cosiddetto template driven form cosa devo fare per usarlo in app module è un file che non avremo oggi modo di discutere di comprendere realmente bene però qui possiamo importare alcune funzionalità di librerie esterne in realtà force module è una libreria di angular già fornita dal team che fornisce sostanzialmente ai miei componenti che specificherò qui sopra come notate qui sopra nella declaration c'è la definizione del mio componente app component questa è una lunga storia però tenete conto che quando creerò più componenti nella declaration dovrò andare qui e scrivere che questa applicazione avrà app component 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 e così via tramite questi import posso andare indicare guarda che i miei componenti useranno le funzionalità di form le funzionalità del router un sistema di traduzioni angular material per material design e così via quindi in questo caso forniamo app component funzionalità specifiche per i form che non sono quelle che abbiamo usato adesso perché fino adesso ho semplicemente usato funzionalità di angular che mi permettono di gestire eventi o assegnare una variabile a un campo di input ma ho fatto tutto diciamo in maniera casereccia pur sfruttando il framework in maniera abbastanza furba cioè le sue peculiarità ma mi ma posso possiamo fare di meglio in particolar modo posso anche togliere tutto questo tutto questo e per esempio andare a gestire tutto in maniera un pochino più tradizionale con un tag form e qui dobbiamo andare a utilizzare una funzionalità di angular che sono chiamate direttive sono degli attributi speciali che mi fornisce il framework tra cui ng model assegnare una chiave questa sarà la chiave che identifica questo questo campo di input in questo caso potrebbe essere la chiave che chiamiamo semplicemente testo di ricerca ma potrebbe essere l'età il sesso dell'utente differente quello che rappresenta questo campo in questo caso la nostra ricerca testuale posso averne anche più di uno per capirci se avessi qui potrei metterci due campi uno che recupera il name l'altro surname eccetera eccetera noi avremo semplicemente adesso un campo chiamato text e quello che possiamo fare magicamente e usare una template reference variable f che contiene in realtà una funzionalità di angular chiamata ng form in poche parole anche qui ce ne sarebbero da dire di cose ma tenete conto che angular dietro le quinte crea immaginate un'istanza per ogni form che utilizziamo questa istanza di tipo ng form l'andiamo osservare in f il vantaggio come vedrete è che adesso se qua uso i template tags che sono semplicemente un modo per scrivere qui dentro espressioni per esempio posso scriverci uno più uno e vedrete qualche c'è la somma due oppure il contenuto di una proprietà per esempio value abbiamo detto che abbiamo value con un valore 10 qui ci posso mettere un value oppure vedete in alto a sinistra il 10 qua o value più qualcosa per 2 indifferente qui guardate cosa possiamo fare questo l'utilizzeremo dopo ve ne parlerò meglio possiamo sapere se il form è valido se il form è dirty se il form è touched se ci sono degli errori nel form e molto molto altro e anche per esempio il suo value qui vedete che adesso il form è valido perché non ci sono validatori applicati se scrivo required vedrete che il mio form adesso è false non è valido finché non scrivo meno una lettera all'interno qui vediamo anche che abbiamo dirty che vuol dire sporco e sarà sporco appena inizio a scriverci qualcosa all'interno una volta sporcato rimane true quest'altro true è il mio touch mi dice se il form l'ho toccato o meno e il form value che è un oggetto e solitamente non si possono fare dei print degli oggetti per questo angular ha degli speciali formatter per le date i number ma anche per gli oggetti useremo json per far vedere cosa succede nell'oggetto vedete un oggetto che contiene semplicemente il testo e man mano che scrivo qualcosa si popola grazie a questo noi possiamo gestire quindi messaggi di errore possiamo gestire mostrare un messaggio d'errore se il form è invalido ma solo magari quando è dirti cioè quando inizio a scriverci dentro perché magari è brutto far vedere qui un errore subito nel momento in cui parte l'applicazione quindi solo quando inizio interagire con il form mostro l'errore e così via qui possiamo avere anche più campi di input per capirci guardate com'è facile entrambi i campi di input require per esempio questo il testo questo è l'età per dire una cosa a caso ora vedete che mi si è aggiunto automaticamente la keyword age quindi questo age rappresenta la chiave del nostro proprietà all'interno del form value e in automatico io ho già un oggetto che mi contiene tutte le funzionalità del form e lo stato sarà valido o meno quando necessario quindi qua paradossalmente potrei mettere un pulsante per esempio search eccolo qua anche se il layout non è non è il massimo un pulsante search che di solito ha il pulsante ha una proprietà disable che mi permette di disabilitare quel pulsante ma io con un altro trick di angular usando le parentesi quadre posso rendere dinamico qualunque attributo del mio template html e in questo caso voglio che l'attributo disable sia true o false sulla base dello stato di validazione del mio form adesso se sarà disable fino a che il mio form è invalido appena il mio form diventa valido ovvero tutti e due i require sono soddisfatti come vedete diventa valido automaticamente stessa cosa potrei applicare delle classi css per esempio qua o degli style faccio un esempio qui posso applicare uno style per esempio che ne so background color red dinamicamente sulla base dello stato di validazione del form come posso fare qua vedrete un'altra magia di angola style con le parentesi quadre ma posso specificare qualunque proprietà css qui e dirgli guarda se il form è invalido per esempio restituisci un colore rosso altrimenti magari non fare nulla vedrete che qua è rosso fino a che ha giusto fino a che entrambi perché il form è invalido non il singolo campo questo no il form è invalido o meno solo per mostrarvi degli degli esempietti banali o posso dirgli guarda solo quando il form è invalido ma anche dirty quindi all'inizio non vedo nulla finché non riesce non inizia a interagire con il form viene fuori l'errore poi sparisce quando non necessario questo giusto per farvi vedere un po il potenziale no e ok e di questo ce ne sarebbe di più possiamo di tantissime altre cose possiamo addirittura sapere ma non ve lo mostro adesso perché non abbiamo il tempo se non ci fermiamo solo i form potremmo andare avanti veramente due giornate solo a parlare di form in angular qui in realtà possiamo anche sapere per esempio se l'errore quindi con un comando simile a questo adesso lasciate stare che non è proprio questo errors se l'errore di tipo required o di tipo min length quindi non solo se invalid ma anche qual è il tipo di errore se qui ho per esempio un altro validatore min length o addirittura potrei avere qui dei validatori custom tipo iban validator a quel punto avrei una proprietà errors che mi dice per esempio iban invalido ore quare o min length e mi è utile per differenziare per esempio i messaggi di errore l'iconografia o quello che vogliamo non solo se appunto se formi invalido ma sulla base del tipo di errore quindi vi anticipo che questa versione dei form sono chiamati template driven form perché vengono completamente gestiti dai da da dal template e seppur contiene un sacco di roba e vi garantisco che appunto ne abbiamo vista solo una piccola parte adesso questa è la versione dei form più semplice perché poi abbiamo un'altra chiamata reactive form che quasi quasi adesso vi mostro al volo che mi permette di farci veramente di più posso avere form dentro form quindi posso avere un sotto form del form e validare solo quello quindi un form multi step quando uno step è valido vai al prossimo step posso avere array di form validando riga per riga validatori sincroni validatori asincroni e qui avere già una proprietà pending che viene automaticamente popolato o meno quando sto facendo la chiamata il server ma veramente tanta roba tanta roba onestamente perché a farvi capire o addirittura più di una giornata e mezza solo il mio catalogo formazione solo dedicati ai form per quanta roba c'è che possiamo fare e quando dobbiamo creare applicazioni reali complesse è veramente tanta roba e ci toglie veramente un sacco di lavoro ok quindi sto guardando se ci sono domandini o dubbi ok per esempio invece di fare tutto questo vi mostro un'altra chicca che anche qua racchiude invece in questo caso rxjs dietro le quinte che è anche solo di questo potremmo parlare per settimane settimane ma possiamo qui usare un altro approccio possiamo ad esempio andare a creare qui una reference una proprietà chiamata input perché non ho fantasia il nostro campo di input ovviamente immaginiamo che adesso abbiamo bisogno di avere solo un campo che ce ne abbiamo solo uno ci sta perfetto possiamo utilizzare una classe creando il classe di form control questa classe però non è disponibile di default dobbiamo aggiungere qui reactive forms reactive forms module una volta creato utilizzato questo importato questo modulo questo pacchetto di funzionalità cui avremo accesso a queste nuove funzionalità possiamo definire anche un valore di default per esempio bla bla e per vedere che funziona noi andremo a prendere questo input text e lo associamo a questo campo di input banalmente banalmente utilizzando form control e andando a specificare qual è la nostra reference ora qui possiamo anche specificare validazioni via dicendo ma in realtà vi voglio mostrare un altro piccolo senza andare troppo nel dettaglio se no davvero non finiamo più qui vedremo bla bla quindi capiamo che funziona perché a questo campo di input associamo questa istanza di input xd che si chiama form control e qui possiamo metterci in realtà non solo una stringa di default ma qui possiamo specificare anche una serie di validatori se require se min length o il mio custom validator e così via addirittura un terzo parametro con i miei async custom validators che fanno operazioni lato server eccetera eccetera tanta tanta roba però vi voglio mostrare un'altra chicca questi form vengono chiamati reactive form perché in realtà qui nel costruttore della mia classe espongono una proprietà value changes che è un observable un observable è un concetto che va diciamo che viene preso dalla programmazione funzionale reattiva e praticamente non abbiamo più una proprietà ma abbiamo uno stream di dati rappresentato spesso da una linea temporale ogni volta che in questo streaming questo observable vengono messi dei dati arriva praticamente qui il nostro dato no indifferente può essere un campo di input la cosa bella che può essere qualunque cosa un campo di input una chiamata al server le nostre socket gli eventi del mouse le 20 da router qualunque cosa in angola ma in generale può essere trasformata o resa un observable angola di per sé mi offre questa proprietà e come vedete è già un observable e per utilizzare un observable io devo sottoscriverlo ricevo un valore il mio testo in questo caso e posso fare il print del mio testo ora questo campo di input verrà trattato come se fosse una classica promise se immaginate con il den che chiamano a colpe come se fosse un'operazione asincrona ed infatti vedrete che ogni volta che scrivo qualcosa qui ricevo direttamente il mio testo ora senza entrare troppo nei dettagli immaginate che qui io debba chiamare una far una chiamata al server passando per cercare la serie tv passando questo testo e qua immaginate di far una chiamata http ovviamente qui farei già cinque chiamate al server mentre invece ne voglio fare solo uno al termine rgis mi permette di avere qui tramite un metodo pipe di usare quelli che sono chiamati rgis operators questa è già roba un po' più avanzata no ma giusto per farvi capire il potenziale io qui posso per esempio dirgli guarda non voglio fare una chiamata al server se il testo usando filter filtrami e non farmi arrivare praticamente qui se il testo non ha almeno una lunghezza di due caratteri quindi ora vedrete che i primi due caratteri sono saltati e partiamo da sop soprano oppure vi posso dire guarda non farmi una non emettermi un valore ogni volta che digito qualcosa ma fallo ogni secondo in questo modo cosa fa il debounce time? verifica che il tempo di digitazione tra un carattere e l'altro sia superiore a un secondo se non è superiore a un secondo non emette nulla appena finisco di digitare lo emette quindi ho tutto il tempo di scrivere soprano e fare un'unica chiamata allo stesso modo vi mostro l'ultimo esempio immaginate che io abbia già cercato soprano e qui abbia i risultati di soprano magari tolgo la o rimetto la o come vedete qua mi viene fatto un'altra chiamata soprano che non servirebbe perché sono già sul soprano distinct until change è un altro operatore che verifica che se il valore precedente era già soprano non emetterà un nuovo valore se lo ridigito vedete soprano adesso tolgo la o rimetto la o e non abbiamo nessun valore emesso questo giusto per farvi capire un po' il potenziale come si fa a cambiare i campi di un reactive for dinamicamente esempio una grafica privata hai dei metodi anche per fare cose fantastiche per esempio tu qui puoi andare a metterci un valore di default e un validatore per esempio validators validator punto puoi fare un sacco di robe adesso non ce la faremo a vederle ovviamente neanche minima parte required ma esistono dei metodi tipo dis.input.setvalidators che ti permettono di settare a runtime un validatore quindi tu potresti avere qui il tuo partita iva custom partita iva validator quando seleziono un checkbox che vuol dire non sono un'azienda quindi puoi passare il tuo codice fiscale validator e puoi switchare a runtime il tipo di validatore che è contenuto in questo campo di input tanto per mostrarvene una tanto per rispondere alla domanda non mi ricordo di kingarsan ma è solo una delle piai una delle chicche ci possono fare veramente un sacco di robine devtech questa è la versione pulita esatto c'è quella sconcia in cui faccio di solito con milano togli l'ano e rimetti l'ano ormai mi avete beccato però non volevo rovinare la live di mich e ormai l'avete detta voi allora quella era la versione hot per il mio canale twitch e non quello di mich però ormai abbiamo detta fatto sta che adesso qui dentro posso farvi per fare queste cose un template driven form o un ngif è molto più semplice no sì assolutamente anche se però con un template driven form non puoi fare questa cosa a meno che non usi adesso senza entrare nel dettaglio il view child quindi view child puntare una template reference variable del template quella che avevamo fatto prima qui usi la reference al template al view child che hai messo qui e fare questa cosina qua usando però from event che è un operatore di array.js quindi passi il view child il tipo di evento input e poi fare questa roba questa viene sicuramente più naturale e onestamente se devo fare effettivamente una ricerca di questo tipo che fa partire la ricerca dopo un lasso di tempo non vedo perché non usare template driven form che mi rende il mio template comunque molto pulito non ho più tutta una serie di controlli in più i campi di input posso usarli nel caso di reactive form nel costruttore perché non dipendono dalla change detection che è un meccanismo che compila questo template rispondo in questo caso a King Hassani un'osservazione in più che non è proprio per chi inizia in Angular e in quel caso certe operazioni non puoi farle nel costruttore neanche nei metodi del ciclo di vita ng on init ma devi aspettare che il template sia pronto e caricato e c'è un metodo del ciclo di vita dei componenti che si chiama ng after view init qui abbiamo una serie di metodi che vengono invocati automaticamente dal framework quando succedono delle cose nel caso di template driven form se vogliamo dare il focus per esempio al campo di input o fare qualcosina dobbiamo aspettare che vengano invocati vedete io non li chiamo eppure vengono invocati automaticamente alcune operazioni con i template driven form dobbiamo farle necessariamente qui perché dipendono dal rendering del mio template altre invece con i reactive form o tutto sincrono che facilita anche gli eventuali unit test tra l'altro per chi è fanatico degli unit test abbiamo diciamo un form che è slegato totalmente dal template vabbè però questo è un discorso adesso che non è forse il caso di fare casomai lo riprendiamo altrove ok ora anche se non è una buona pratica farlo qui dentro sappiatelo quindi per i puristi di RxJS non è una buona pratica sappiate che non è una buona pratica ma io qui volendo potrei chiamare il search un metodo search eccolo qua vi ricordate il nostro amico search e ricevere direttamente il testo e a questo punto una stringa puoi fare la mia chiamata al server non è una buona pratica perché una chiamata al server volendo la posso fare direttamente qui con un operatore speciale e qui non ricevere più il testo ma ricevere già il risultato della mia ricerca però uno di questi operatori può essere switch map per esempio per chi già ha avuto modo di vederlo però non voglio complicarla troppo oggi e voglio farla semplicemente così per quanto riguarda la comunicazione con i server Angular ci fornisce un HTTP client module che praticamente è un po' quello che in vanilla Java scritto nel mondo React sono fetch Axios e via dicendo il vantaggio è che questo si integra perfettamente con il framework e fa tantissime altre magie che non vedremo però intanto sappiamo che qui quello che posso fare è utilizzare quel servizio in Angular questo servizio inteso questo questo pacchetto di funzionalità relative alla comunicazione con i server in Angular abbiamo la possibilità di usare le istanze come per esempio in questo caso new form control l'abbiamo fatto a manina ma invece di istanziare a manino a manina una classe possiamo iniettarle invece quindi di fare var HTTP uguale new HTTP per fare la comunicazione con i server perché come vedete mi offre GET POST eccetera quello che possiamo fare è creare qui il nome dell'istanza e iniettarlo possiamo anche iniettare dei custom service tipo il gestore dei utenti user service o il gestore di tema tem service posso iniettare delle classi senza necessità di istanziarle manualmente quindi evito questo evito questo e una volta che l'abbiamo iniettata possiamo utilizzarlo per poter utilizzare qui però non posso fare questo perché sono in una classe e devo andare ad utilizzarlo con il dis in questo caso dis.http ma quando inietto qualcosa quel qualcosa è disponibile solo in questo caso nel costruttore l'injection si può fare solo nel costruttore come faccio a utilizzarlo qui beh l'opzione lunga sarebbe crearmi qui una variabile HTTP e il dis.http che sarebbe questa variabile salvarmi la mia injection in modo da poterlo usare qui la versione concisa è mettere un private qui davanti questo non solo inietta la classe ma la rende una variabile privata della mia classe affinché io posso poi utilizzarla un po' ovunque quindi qua posso fare una GET e ora posso utilizzare un API delle serie TV API eccola qua vedete show cats cats inteso gatti in italiano e abbiamo qui una serie di informazioni che sono tutto quello che riguarda la serie TV per esempio cats oppure il soprano vedete qua il soprano lingua generi dramma e via dicendo abbiamo tutte le informazioni che riguardano questa serie TV prendo sto link lo metto qua usi backtick perché gli è comodo perché invece di concatenare le stringhe con il più posso metterci delle variabili dentro la stringa come per esempio il mio testo da http get cosa fa se io clicco qui o vado anche sopra vedete che mi dice che la get accetta un url anche delle opzioni quindi se voglio customizzare leader parametri e via dicendo e restituisce un observable per capirci un po' quello che fate di solito con qualunque altra chiamata con le promise con il den anche in questo caso lo possiamo sottoscrivere riceviamo il risultato e lo printiamo vedete adesso che quando vado qui scrivo soprano e dopo un po' mi arrivano quattro risultati che hanno uno score quindi quanto è attinente il risultato della mia ricerca e show che mi mostra tutto quello che devo fare ovvero tutti i campi scusatemi della serie tv benone cosa voglio fare adesso voglio visualizzare queste informazioni qui mi creo una variabile per esempio result prendo questo risultato e lo salvo in result che vuol dire che adesso possiamo andare a visualizzare ad esempio qui sotto usando le famose i famosi template tags qualunque sistema di template ormai da 10 anni a questa parte ha qualcosa del genere per creare qui istruzioni ed espressioni nei template possiamo visualizzare il nostro risultato scrivo soprano vedremo adesso un array di quattro oggetti come abbiamo visto esistono le pipe che sono dei formatatori di dati che quindi possiamo usare pipe date number così via il pipe json mi mostrerà invece semplicemente l'esploso con tutti i risultati che abbiamo ora quello che possiamo fare semplicemente prendere questo array di dati e usarlo per creare qui una vista di quattro elementi nel caso di soprano quanti sono i risultati come possiamo fare prima di tutto quello che voglio fare è tipizzare questo risultato in questo modo cosa vuol dire che posso andare su res questo res devo tipizzarlo e indicare che il risultato è di un certo tipo ha una certa shape diciamo così una serie di campi perché adesso se provo a fare res per esempio di 0 punto qualcosa non ho nessun valore ma res di 0 che il mio array dovrebbe quantomeno mostrarmi che ho score show e via dicendo come facciamo a tipizzare un valore un po' come andiamo a definire appunto che il nostro value è di tipo due punti number qui vogliamo che sia di tipo ad esempio serie tv anzi un array di serie tv come facciamo a creare questo type custom noi andiamo qui creiamo una cartellina model creiamo un file che si chiama series per esempio ts creiamo un custom type si può fare in diversi modi uno più semplice è quello di andare a creare qui un'interfaccia series e qua posso piazzarci per esempio score che è un number e come vedete corrisponde a questo score qui che show a sua volta contiene n proprietà per esempio qui potremmo definire o che contiene d number e via dicendo o meglio ancora creare un nuovo type show show allora ce la posso fare show che a sua volta è un altro type custom che contiene tutte le proprietà di show tra cui l'id e così via e andare via via a dichiarare url bla 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 e tutti sotto type ovviamente è un fastidioso prendo tutto questo risultato e lo metto in un tool chiamato json2ts genero clicco su generate prendendo tutto quello che abbiamo nella response e mi genera automaticamente tutto quello che mi serve la mia classe non mi servono i namespace non mi serve questo qui ho root object perché ovviamente il generatore non sa che queste sono delle serie tv li scrivo e ora grazie a questo ho un type completo che posso usare per tipizzare questo importandolo ad import vedete importo serie da model series e qui posso andare a specificare tramite i generic un'altra funzionalità di type che il risultato che mi arriverà sarà un array di serie tv ora vedrete qui che ho la tipizzazione in place infatti vedo show punto genres oppure punto url e così via ho tutto tipizzato e quindi non posso più commettere errori di questo tipo con una proprietà che eventualmente non esiste o non mi ricordo quello che è quindi prendo questo risultato lo salvo in result e adesso qui sopra abbiamo come abbiamo visto il risultato un risultato spesso tra l'altro che io formato in un tag pre perché vedrete come viene formatato elegantemente adesso questo questo risultato soprano qui abbiamo finalmente una versione più umana con tag pre e un tag che mi permette di avere un font monospace ed è molto comodo per avere output di modelli di dati vedete questo è un array quello che possiamo fare quello che possiamo fare dev tech la differenza tra iniettarle o meno in angular tieni conto che c'è tutto un sistema di dependency injection che serve per gestire le istanze ed è molto comodo quando abbiamo delle custom classes perché puoi decidere che questa istanza funzioni come una single tone quindi che sia in root o abbia più istanze dello stesso servizio e così via adesso è un po' lunga da spiegare comunque il vantaggio è di non doverci preoccupare poi soprattutto di memory leak e di dover distruggere le nostre classi perché se ne occupa il motore di dependency injection fa tanta roba in realtà però addirittura dietro le quinte io potrei avere qui il mio log service faccio un esempio banale per farvi capire il potenziale e posso fare in modo che dietro le quinte il motore mi vada qui ad associare un'istanza di log service in produzione e mi loghi per esempio su google analytics oppure posso fare con dei comandi posso dirgli guarda che però se sono in sviluppo quando usa log service qui dentro e deve loggare qualcosa non farmi il login in google analytics usami un'implementazione di una classe differente per esempio fake log service quindi posso per esempio dietro le quinte switchare per esempio da una classe ad un'altra a seconda che sia in produzione o meno senza fare degli if qua se sono in production o meno eccetera quindi permette di fare un sacco di roba però adesso insomma un po' prematuro andare a dire un po' tutte queste feature può non essere uguale la classe a sai che non l'ho capito unai se mi dai qualche dettaglio in più ti rispondo che non ho ben capito cosa intende la classe BS sta per becchendo o altro ma non ho capito bene la domanda ok comunque abbiamo questo risultato ora altra magia che in realtà è quella da cui di solito parto quando spiego angola non parto sicuramente da questa però è quella di fare questa operazione qua qui abbiamo vedete l'immagine di default che in realtà vedete ha una struttura identica a questa tranne il fatto che qui abbiamo l'image qui abbiamo un no image che questa roba diagonale qui no crati css per il momento la commento abbiamo solo un risultato si è una buona pratica ottimizza il tutto e ti dà molta flessibilità molte chicche potenziali diciamo potenza di fuoco in più aspettate che io vedo l'ultimo commento non lo riesco mai a leggere ok il modo per mappare le properties del json può non essere uguale alla classe a il model si potrebbe non essere uguale però a quel caso lì sono dolori nel senso che devi tu cercare di avere corrispondenza tra le classi del back end e il front end infatti una tecnica è quella di usare monorepo per il back end e il front end e avere della condivisione del modello di dati tra il front end e il back end questa può essere una strategia per esempio per usare le stesse interfacce ovviamente se il modello di dati è il back end è il node ma c'è possibilità anche in java e dot net di fare qualche generazione automatica di questi modelli in modo tale che poi ci sia sempre consistenza però sì potresti assolutamente sbagliare io potrei tranquillamente dirgli che qua un number funzionerebbe comunque ma ovviamente sarebbe tutto sballato quindi ovviamente devi stare da quel punto di vista lì devi stare un po' attenta tu ok detto questo qua adesso questo grid item io lo voglio ripetere clonare n volte quante sono le serie tv qui possiamo usare delle direttive come avevamo anche prima l'NG model il form control e via dicendo si chiama ng4 e mi permette con una sintassica il classico for off di javascript s6 di fare questo let item oppure series of result quindi l'array result clonami questo n volte sulla base del risultato soprano abbiamo quattro risultati e ne vedremo quattro ora ogni clone sostanzialmente contiene dentro series il valore del singolo elemento quindi qua potrò banalmente usare le parentesi quadre per esempio per mostrare series punto show punto image punto versione originale o medium perché tanto non ho molto da mostrare vado qui scrivo friends e avrò le mie serie tv o scrivo soprano e avrò un'eccezione perché perché questa serie tv qui non ha un'immagine quindi si incavola perché mi dice guarda che non posso accedere a una proprietà medium di un oggetto null che non esiste perché in quel caso c'è questo problema quello che possiamo fare qui a questo punto usare un'altra direttiva speciale ngif e dire guarda questo renderizzala solo se c'è per esempio un image in questo caso vedrete che avremo un buco non è bellissimo ma almeno non mi va in errore però qua vi ricordate avevamo anche noi image in questo caso potrei ad esempio dire guarda questo mostramolo invece per farla molto semplice ovviamente se invece non c'è un image ed ecco che abbiamo digestito il default ok vedo che state discutendo di model figurati Iona ok vedete molto molto easy e abbiamo già creato praticamente il risultato qui ovviamente possiamo metterci adesso con le graffe il nome della serie tv per esempio show punto non mi ricordo più qual è il name e dovremmo vedere anche quello perfetto tratti i tre puntini perché gestisco semplicemente in css la rimozione del testo in eccedenza rispetto allo spazio disponibile ok fatta questa al click vogliamo mostrare la modale la modale che vi ricordo era nascosta e vogliamo vedere la serie tv cosa possiamo fare possiamo usare un trick molto semplice al click di un risultato al click di un risultato e come lo possiamo fare al click di un elemento potrei per esempio andare ad invocare un metodo che potremmo chiamarlo item click handler e mi passo qual è la serie tv che ho appena cliccato series quindi mi darà la serie tv che sto cliccando item handler creo il metodo sotto vedete riceve la serie tv e qui vedremo l'output della serie tv quindi scriviamo di nuovo soprano clicco e vedete qua la serie tv vabbè la soprano questa è l'altra serie tv e così via cosa facciamo mi salvo il risultato qui dentro per esempio che ne so la serie tv attiva active series che sarà una series o in realtà visto che a me non serve lo score e lo show ma mi fa comodo avere tutti i dettagli che sono dentro il show potrei salvarmelo anche semplicemente come show quindi potrei chiamarlo anche show quindi le informazioni questo vuol dire che dentro la variabile show mi salverò non series perché mi dà un errore mi dice guarda che la series non è uno show ma posso salvarmi series punto solo la proprietà show che come vedete è di tipo show e la può contenere questo vuol dire adesso che se qui sotto prima della sotto le serie tv scrivo un pre con il mio show e pipe json perché è un oggetto ora vedrete qui e al click ho le informazioni di soprano l'os serrano soras king e così via quindi qua ho quelle informazioni sono le informazioni che userò nella modale qui sarà sufficiente dire questo mostrami la modale solo se c'è uno show quindi inizialmente show è undefined non mostra nulla soprano clicco su questo e mi si vede la modale statica che è tutto questo blocco di codice qui a sua volta qui vedete ho la x in alto a destra che si vede poco posso metterci un click e dire guarda a questo punto quando clicchi rimuovimi il contenuto di show quindi questo è nel gif tornerà a non mostrarmi il contenuto e vedrete che clicco e nascondo clicco e nascondo quasi per concludere quasi per concludere a questo punto active scusatemi lo show contiene le informazioni della singola serie tv quindi qua posso metterci src sull'immagine e metterci per esempio show.image punto medium in questo caso per mostrare il contenuto abbiamo visto che però potrebbero esserci delle serie tv che non hanno la locandina quindi in questo caso potremmo metterci un mgif mostramelo per evitare errori solo se effettivamente c'è un image anche l'alt potrebbe contenere qualcosa non so per esempio il titolo della serie tv il name in modo da avere anche l'alt torniamo qui soprano serie tv ed eccolo qua perfetto vabbè stessa cosa qui a questo punto qui possiamo usare series punto no show punto name i tag cosa sono i tag show punto show punto abbiamo i generi no? i generi vedete è un array di string tipo crime drama e via dicendo siccome è un array quello che facciamo è usare un altro ng4 qui e possiamo dire per esempio let tag of show genres quindi a quel punto qui mi ripete questo qui questi tag e me lo ripete quanti sono i generi qui dentro ci mettiamo visto che una stringa il nome del genere stesso e vedremo qua i tag tant'è che adesso soprano invio ecco che ho drama e crime un altro non lo so ne prendo uno a caso questo qui comedy romance e così via e qui invece possiamo includere il nostro punto summary come vedrete in questo caso summary conterrà anche del testo vedete qua html possiamo però usare non solo la figata gli attributi dei nostri html element ma possiamo usare le proprietà del DOM tra cui inner text o inner html che poi fa già il sanity del nostro contenuto quindi siamo anche tranquilli dal punto di vista della sicurezza e ora invece di usare questo vado a dire guarda che in questo div devi piazzarli dentro un contenuto html e infatti adesso vedrete che qui avremo soprano leggermente in grassetto si nota poco ma ha applicato gli stili direttamente i tag direttamente ha renderizzato direttamente i tag vabbè e a questo punto href idem come vedete possiamo tipizzare tranquillamente tutto il nostro eh scusatemi rendere dinamico il nostro layout in maniera veramente semplice qua vado a rimandare all'url della serie tv e direi che abbiamo praticamente completato la prima parte dell'applicazione che in realtà è tutta l'applicazione ma magari vi faccio vedere ancora una piccola miglioria vedete qua abbiamo visit website andrà al website dei soprano e così via e in 4 e 4 8 è stato più il tempo perso per descrivere il tutto che per farlo abbiamo creato una micro applicazioncina vedendo un po' di tipi di forme vedendo un po' come funziona il template e così via vi voglio mostrare velocemente però ci perdo veramente 5-10 minuti poi abbiamo terminato come questo può essere modificato e reso e ottimizzato con una gestione a componenti per evitare qui di avere template troppo lunghi cosa possiamo fare questo blocco di codice si presta moltissimo a essere un componente che tra un po' vedremo che cos'è che chiameremo per esempio list o result o quello che vogliamo possiamo creare di nuovi custom tag questo si presta a essere il componente che si chiamerà modal per esempio in modo tale da rendere il template molto più leggibile compatto rispetto ad avere migliaia di righe di html fabio non cancellare il codice verdone comunque ce l'hai sul ho repository sul mio github se volete lo trovate già lì si chiama mi sa come esattamente questo tv maze angular demo beginners e tra l'altro ha tre branch se volete giocare ho fatto tre branch questo è il branch chiamato static template da cui sono partito questo è il punto di arrivo in cui sono arrivato adesso step 1 fundamentals master contiene la divisione anche a componenti quindi che andiamo a fare adesso quindi la divisione sotto component ok perfetto quindi no adesso avete tutti gli step lo step 1 è questo dove siamo arrivati l'applicazione che funziona in maniera sempliciotta ma funziona cosa possiamo fare possiamo creare di nuovi componenti ora in questa applicazione non parleremo di organizzazione progetto scalabilità eccetera quindi stiamo buttando tutto qua in root senza gestione multi view quindi un router cioè è proprio banalmente una semplice applicazione buttata qui in root ovviamente si può fare molto di meglio ma abbiamo un comando ng mi fornisce una serie di comandi molto comodi per creare per esempio componenti servizi direttive custom pipe custom e tutto e tanta altra roba generiamo un componente che creerò nella cartella components slash slash e lo chiamiamo per esempio list ovviamente è meglio chiamarlo series list dare un nome più significativo uso un'opzione meno meno flat che mi fa comodo siccome io ho impostato il progetto con inline template inline style vedrete che questo list è un singolo componente ma di solito mi genera quattro componenti il typescript l'html il css e lo unit test di default quindi di solito mi crea una cartella components cartella list e dentro i vari file con meno meno flat evito che mi crei una cartellina lo butto lì in questo modo vedete ho molto e meno roba cioè invece di avere due cartelle per la modale e la lista che contengono quattro file ciascuno io ho una cartella che contiene due file quello vi dicevo preferisco questo approccio per semplicità per avere più compattezza nel progetto e così via fatto sta che adesso per esempio potrei qui istanziare la mia modale che si chiama fbmodal che è quella che ho creato qui adesso tra un po' andremo a prendere vedete qui vedo un comando un output modal works perché la mia modale in realtà guardate che cos'è è una classe esattamente come app component chiamata modal component con un suo selettore il selettore è quello che sto usando qua per istanziarlo prendo tutto questo template e lo piazzo qua dentro ovviamente qui si arrabbia e perché non trova la proprietà show che è quella che viene usata per mostrare i contenuti perché la proprietà show è a sinistra non c'è qua dentro allora innanzitutto questo ngif per far sì che il componente non venga istanziato sempre solo e solo quando è necessario l'ngif non lo lascio qui dentro ma lo sposto qui fuori in modo tale da evitare che la modale sia proprio istanziata anche a livello di memoria non occupi memoria se non c'è effettivamente se non ho cliccato e non ho popolato show però in realtà qui dentro ho bisogno di show posso usare quelli che in qualunque linguaggio di programmazione sono chiamati setter per passare delle proprietà a questa classe ma in angola in realtà sono un po' diversi e vengono in questo caso chiamati input properties definisco qual è il nome della proprietà quindi qui si dice che sto decorando la proprietà show della classe con un input e posso dirgli guarda che questa proprietà show è di tipo show adesso non mi dà più errori se clicco qua sulla serie tv ovviamente qui non funziona nulla in realtà non funziona nulla per due motivi innanzitutto qui vedete che c'è visit website c'è il contenuto che c'è qui dentro ma senza css il motivo è che tutto il css io l'ho messo in questo file in angular abbiamo già automaticamente dei file globali per il css come styles dove io posso metterci tutto ciò che è global e infatti qui ci ho messo il body colorato e l'input generico stilizzato e così via ma quando associamo un css ad un componente quel css in questo caso tv maze verrà visualizzato solo da questo componente questo è molto comodo perché se io in tv maze css ho la classe grid per esempio e quest'altro componente un altro css con la classe grid non c'è conflitto il css è locale il problema è che adesso qua questo componente la mia modale non vede più il css che ho specificato qui che è il css della modale infatti qua sotto questa prima parte è del risultato da qui ho il css me lo sono messo qui della modale lo devo prendere tutto posso creare un altro file css che viene linkato vedete qua c'ho styles url che è praticamente questo componente che linka questo file io qui potrei creare un altro file css oppure mi odieranno in molti uso il backtick e lo piazzo tutto qui adesso siccome non mi serve lo collasso così non mi rompe le scatole salviamo e in teoria dovrei avere il css non si vede un piffero perché il mio non ho ancora fatto alcune cose però vedete che almeno ho preso questa forma questo già per farvi capire che possiamo creare local css con file esterni o direttamente in line a seconda dei gusti il problema è che non mi mostro i dati perché perché questo componente io li stanzio ma non gli passo i contenuti di show ora che ho definito questa proprietà in input vedrete già che mi viene suggerito da webstorm show con le parentesi quadre e semplicemente quando clicco su item click handler e item click handler qui sotto setta la proprietà show quello che faremo è passare la proprietà show direttamente al componente quindi vedrete adesso che invece la mia modale tac viene popolata il problema ora è che quando clicco sulla x ok la x eccola qua setto la proprietà show anal ma io non devo settare questa proprietà anal bensì quella del parent ora abbiamo visto come un parent può passare delle proprietà a un figlio ma come può un figlio a questo punto un componente child andare a settare questa proprietà non questa scusatemi ma il clic anal possiamo fare l'inverso invece di avere un input avremo un output lo chiameremo close modal e un evento custom così come il button può avere il clic e via dicendo la nostra modale adesso avrà un listener su close modal e quello che farà è settare show uguale anal direttamente qui come possiamo farlo creiamo un event emitter una sorta di dispatch di un evento questa è una classe che mi viene fornita da angular e la posso importare qui da angular core e invece di fare questa operazione andremo a denettere l'evento in questo caso quando clicco sulla x semplicemente se qui ho un listener a quell'evento viene chiamata la callback associata in questo caso semplicemente show uguale anal ma potrei chiamare un metodo che fa this.show uguale anal qui sotto è differente lo faccio in line perché mi è permesso farlo soprano clicco e come vedrete adesso funziona perfetto bella la UI la x bianca sull'ocadina bianca è utile si nota molto comunque vedete che funziona ok come vedete già mi sono tolto dalle scatole questo stessa cosa per quanto riguarda questo mi sono creato fblist avremo esattamente la stessa cosa list component lo apro qua ci piazziamo dentro qua il template ok stesso problema il componente deve ricevere il risultato in questo caso posso anche cambiare il nome per esempio lo chiamo dammi i dati data che sarà un array di series importiamolo tv e poi usiamo data e qui semplicemente vado a passare adesso data da ce la posso fare e allora tutte le ho provate data eccolo qua che sarà il mio risultato quindi quando faccio una chiamata popolo result e gli viene passato qui il risultato vediamo se funziona ok stesso problema del css perché in tv maze ho il css della serie tv della lista quindi prendo questo css lo piazzo qui quindi a questo punto non avremo neanche più bisogno di questo css posso cancellare il file direttamente perché è vuoto ormai e abbiamo un css specifico per ogni componente quindi l'ho anche diviso a livello logico quello della modale è qui dentro quello della lista è qui dentro salviamo vediamo se funziona perfetto tutto sembra andare il problema è che al click adesso qui facevo item click handler in realtà io devo chiamare l'item click handler lì qui per poter settare questa proprietà show e di conseguenza aprire poi questa modale quindi il componente parent come vedete funge da state manager per gestire poi lo stato di componenti children che in realtà non fanno nulla perché a questo punto la mia modale prende i dati in input e al click mi metto un evento la mia lista prende i dati e al click faremo la stessa cosa output andrò ad avvisare in questo caso che l'evento ci chiama che ne so item click new event emit la differenza rispetto a prima è che qui devo passare anche dei parametri ovvero quale serie tv o quale serie tv ho cliccato quindi qua scriveremo item punto item click punto emit e mettiamo questo valore con la serie tv qui posso usare i generici per specificare che questo sarà una serie tv e cosa possiamo fare qui usiamo item click posso chiamare item click handler che si aspetta come vedete una serie tv lo mettiamo in ordine come recupero il valore quindi item click e viene dispazio a questo evento ho un listener diciamo a questo evento viene chiamato poi il metodo qui sotto ma qui ci manca il valore che passiamo qua come si fa un po' come abbiamo visto prima con dollaro event posso praticamente recuperare il parametro che ho passato e come vedrete è tipizzato già a series perché qui ho specificato che l'event emit item click emetterà un parametro di tipo series e qua abbiamo una tipizzazione in atto item click handler si aspetta una series tutto funziona come prima ok direi che funziona però il nostro codice risulta decisamente migliorato in termini di leggibilità e ovviamente anche il mio form potrebbe essere a sua volta un componente ma in questo caso è un banale campo di input che non vale la pena fare come componente però potremmo ad esempio mettere questo in un componente e anche la gestione poi del suo del pipe debounce e così via fare all'interno del componente ma direi che per stasera abbiamo già dato abbastanza quindi io direi che concluderei qui è stato giusto un overview per farvi capire un po' ripeto il potenziale di angular per farvi capire come cosa possiamo fare che esiste a race.js che possiamo usarlo con i form ma possiamo usarlo come vedete anche per le chiamate http questo è sempre un observable abbiamo tutta una serie di funzionalità inclusa nel framework come abbiamo visto direttive che mi permettono di iterare posso anche creare le mie direttive per esempio nascondimi questo pulsante se sono se non sono logato quindi posso creare dietro le quinte una direttiva che gestisce la business logic della visibilità di questo pulsante possiamo creare custom pipe io posso avere dei dati che formatto come number o come una data oppure posso dire convertimi questo in gigabyte mille mille sono megabyte convertimi in gigabyte quindi qua vedrò qualcosa altro quindi sono dei formatter di dati ma abbiamo veramente un sacco di possibilità anche a livello di gestione abbiamo da un router integrato che permette di gestire paginazione multipagina lazy loading e tantissima tantissima altra roba però direi che non abbiamo già visto tanta tanta roba in un'oretta e quindi se avete domande sono qui e così ma così mai fai tutto eccoci eccoci bene wow wow c'è tanta tanta roba in un'ora e mezza abbiamo fatto tu non mi ricordi se lo usi Angular diciamo che non giornalmente però lo conosco perché lo usavi ma pare un po' di meno adesso ormai più sole adesso no adesso meno codice direi buon per te vabbè dipende dai punti di vista scherzo scherzo bene chat super attiva stasera le domande le hanno fatte strada facendo e ce n'è una appena arrivata la metto a schermo sì eccoci io ne per poter utilizzare il list company posso passare sì assolutamente quindi renderlo personalizzabile quanto vuoi puoi decidere se deve visualizzare per esempio un tipo di icona per ogni elemento quindi glielo passi come proprietà o se deve comportarsi in un modo o nell'altro assolutamente sta a te in decidere quanto smart flessibile deve essere questo componente può gestire n tipi di dati qui potete gestirlo o con Series TV o mettete EMI e gestisce qualunque tipo di dato ma potete nel momento in cui siete un pochino più diciamo siete un attimino più dentro al mondo di Type-C potete usare anche qui eventualmente i generics e fare tante altre cosine per gestire appunto qualunque tipo di situazione addirittura se questo deve essere flessibile anche qui possiamo stabilire di poter decidere tramite proprietà di input a quali proprietà accedere nel modello e così via ovvio più flessibile il componente meno tipizzato in realtà sarà per certi versi e chiaramente deve essere e più complesso sarà perché deve gestire più dinamico ma ci fai quello che vuoi e questo vale per Angular come per React o qualunque altro framework front-end ottimo e vai no no vai vai tu io guardavo domande intanto ho l'occhio lì sotto no allora vi ricordo ragazzi che è super importante riempire il feedback form ok feedback form sto mettendo il link in chat quindi se volete riempite il feedback form potete dare un voto alla sessione ma soprattutto lasciare dei suggerimenti vi ricordo che questa è una serata di una serie di eventi che vanno dal 22 maggio al 29 maggio compresi dove parliamo di vari argomenti quindi se ci lasciate un feedback ci dite cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto e così via riusciamo a migliorare per quanto possibile abbiamo detto che è una cosa molto community e grazie anche soprattutto all'impegno degli speaker che ci dedicano del tempo grazie Fabio non ci mancarebbe altro per tutte le domande se le avete mi trovate un po' ovunque senza fare spam adesso quindi eventualmente fatemi pure le domande o in privato o nelle community che ci sono su facebook eccetera e magari vi rispondo è inutile che adesso rubiamo troppo tempo a amici che già stavano si stavano faticati Fabio scusami ancora grandissimo non ti preoccupare è stato è stato super super fantastico grazie va bene ultimissima cosa vabbè grazie infinita Fabio grazie a tutti gli speaker che nel corso delle serate si stanno alternando per parlarci di varie cose argomenti quanto più diversi possibili però diciamo che era proprio lo scopo era quello tra le tante cose credo che il tuo sia l'unico live coding diciamo durante questa serie di eventi perché l'idea era proprio lasciare il format aperto allo speaker quindi lo speaker decideva che cosa fare Fabio Pazzo come sempre ha deciso sai che c'è scrivendo il codice tanto ormai sei di casa ma io non sono capace ormai no ma copro le mie incapacità da livello di oratore con il codice no e quindi mi viene più facile beh beh ci sta quindi grazie a tutti gli speaker grazie ai supporter che ricordo Carmack Tomorrow Deaths e Pensieri in codice grazie a Livio che ci do una mano spesso con la regia e grazie a tutti voi che avete partecipato e direi boh ci vediamo alla prossima grazie a te Mitch ciao a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.